Ebbene cari amici, ben ritrovati in questo venerdì 17 di maggio del 2024 che per i più scaramanti c'è una giornata molto pericolosa per quelli che ahimè poveri loro credono in queste cose dobbiamo andare di corsa, pronostici, fantacalcio, proiezioni tutto in questo venerdì in cui andremo a 250 all'ora ragazzi partiamo con la nostra intro Cara community del Bar del Calcio, ben trovata ti ricordo che sono in vendita i miei libri a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato Fuggire per rinascere trovate anche gli altri due libri Una storia vera e La stella verde tutto in descrizione a questo video avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto vi ricordo inoltre che siamo partiti con la nostra raccolta che ho voluto ribattezzare metà a noi e metà a voi per andare ad Auronzo di Cadore trovate in descrizione, anche in questo caso in questo video e in tutti i video pubblicati sul Bar del Calcio tutte le informazioni necessarie per partecipare qualora lo vogliate fare Ciao! Vi ricordo come ti consueto che in descrizione a questo video trovate tutte, dico tutte, le informazioni riguardanti il nostro canale quindi mi raccomando ragazzi miei ma adesso come non mai andiamoci a gettare immediatamente in quello che è l'aggiornamento della proiezione della classifica finale perché ci sta da analizzare e da fare tante 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 cose quindi direi un, due, tre trasferiamoci nella schermata che ci interessa Ebbene ragazzi quindi trasferiamoci nella schermata e andiamo subito a vedere quello che è accaduto alla trentaseiesima giornata facendo il confronto, il parallelismo tra i miei pronostici, le mie proiezioni e i risultati reali che piano piano prendono il sopravvento Trentaseiesima giornata Atalanta-Roma avevo preventivato, pronosticato un paregiotto e invece ha vinto l'Atalanta attenzione perché questa cosa può scardinare tutti gli equilibri e le certezze verso i quali eravamo proiettati La Fiorentina rispetta il pronostico andando a battere il Monza e rimonta è clamoroso quello che accade alla Juventus Stadium dove la Salernitana rischia seriamente di fare il colpaccio alla fine pareggia la Juventus che comunque non rispetta il pronostico secondo il quale io avevo appunto pronosticato il successo dei bianconeri Vince la Lazio, vince il Milan Napoli-Bologna era preventivato un pareggio invece anche qui un altro risultato che va a scardinare delle certezze clamorosa prova di forza del Bologna che vince a Napoli strameritatamente Bologna che con questo successo regala a la matematica qualificazione in Champions storica, impresa clamorosa di Diaco Motta e dei suoi ragazzi appunto alla squadra bolognese e anche alla Juventus che quindi rende un po' meno brutta un po' meno sgradevole il pareggio contro la già retrocessa salernitana il Torino va a vincere il rimonta in quel di Verona come potete vedere qui in basso manca l'undicesima in classifica una volta c'era il Monza in queste proiezioni poi l'evoluzione dei risultati fa sì che il Monza sia uscito da ogni tipo di proiezione che potesse coinvolgerla in qualificazione alle coppe e quindi l'ho tolta ecco quindi la classifica amici miei reale ok perché alla mia proiezione abbiamo aggiunto i risultati reali Inter campione d'Italia da mesi il Milan rafforza e ottiene matematicamente il secondo posto in classifica il Bologna guanta a quota 67 punti la Juventus ma forte del degli scontri diretti a proprio favore è terza in classifica Juve quarta 67 attenti perché il successo dell'Atalanta contro la Roma attenzione Atalanta con una partita in meno l'Atalanta si impossessa del quinto posto ultimo utile per andare in Champions proprio grazie al successo una grandissima prova di forza contro i giallorossi nello scontro diretto la Roma rimane al sesto posto in zona Europa League la Lazio si rifà sotto ad appena un punto dai cugini sempre in zona Europa League a meno sei punti la Fiorentina ottava in classifica in zona Conference attenti perché è così come l'Atalanta anche la Fiorentina ha una partita in meno quindi Fiorentina che può essere ancora ritenuta pienamente in corsa anche per l'Europa League il Napoli ragazzi questo l'avevo preventivato due mesi fa e si è verificato vi avevo detto che alla trentaseiesima giornata era probabile che la Fiorentina scavalcasse i campioni d'Italia e così è stato il Napoli ad oggi sarebbe fuori da ogni tipo di competizione europea andiamo invece adesso ci riproiettiamo al cento per cento nelle proiezioni andiamo quindi alla trentasettesima giornata di campionato dove Bologna-Juventus ho preventivato il pareggio tra le due stessa cosa tra Fiorentina e Napoli la vittoria dell'Inter contro la Lazio la vittoria dell'Atalanta in quel di Lecce successo del Milan in casa del Torino e vittoria della Roma contro il Genoa la classifica al termine del prossimo turno potrebbe essere questa Inter prima in classifica al secondo posto il Milan a quota 77 ancora a braccetto Roma scusate Bologna-Juventus a quota 68 l'Atalanta si farebbe sotto a meno due punti appena 66 punti da Bologna e Juventus Roma a meno tre dal quinto posto ormai in una situazione disperata considerando che negli scontri diretti è in svantaggio rispetto all'Atalanta Lazio staccata di quattro punti dalla Roma e a più cinque dalla Fiorentina Lazio che non può più raggiungere gli ultimissimi sogni e speranze di andare in Champions League qualora fosse buono anche il sesto posto la Fiorentina si porterebbe a meno cinque dalla Lazio occhio perché c'è la solita partita da recuperare attenzione a questa situazione ok? quindi questa classifica che vedete è appunto la proiezione della penultima ma andiamo all'ultima giornata di campionato dove la Juventus secondo me vuole chiudere in bellezza la stagione va a battere il Monza la Lazio batte il Sassuolo nell'ultima partita casalinga il Milan chiude in bellezza battendo la Salernitana il Napoli nella sua ultima partita da campione d'Italia in carica batte il Lecce in casa l'Atalanta batte il Torino pareggio tra Cagliari e Fiorentina perché dico pareggio? perché il Cagliari sarà ancora in lotta per la salvezza punto interrogativo quando ho cominciato queste proiezioni per me era una partita importante la Roma vince in casa dell'Empoli Genoa e Bologna chiudono con un pareggio la classifica finale del campionato di Serie A edizione 2023-2024 stando alle mie proiezioni potrebbe essere quella che state vedendo Inter campione d'Italia strameritatamente al secondo posto a quota 80 punti il Milan al terzo posto in solitaria risale nuovamente la Juventus a quota 69 Bologna e Atalanta attenti a questa classifica che vanno quindi a chiudere il quintetto che va in Champions League a quota 66 la Roma a quota 62 la Lazio a quota 55 la Fiorentina e il Napoli attenti a questa situazione la Lazio indipendentemente dalla partita che va a recuperare la Fiorentina che qualora battesse l'Atalanta va a 58 forte di questa proiezione sarebbe matematicamente in Europa League all'Atalanta non servirebbe una mazza perdonatemi il termine la partita il recupero contro la Fiorentina mentre sarebbe a queste condizioni a queste proiezioni sarebbe cruciale per la Fiorentina proprio per andarsi a pescare a dispetto del Napoli a prendere almeno un punto che gli possa permettere di essere da sola all'ottavo posto in Conference League per quanto riguarda le mie proiezioni come potete vedere siamo giunti fin qui tutte prese Lazio-Empoli il pareggio pesa come un macigno il pareggio della Lazio a Monza pensate un po' la Lazio ragazzi con due punti in più magari adesso si sarebbe ritrovata a quota 64 ancora con qualche residua speranza ma adesso andiamo a quella che ovviamente per tante ragioni è la classifica è la schermata più interessante eccola qui ragazzi miei eccola le varie proiezioni l'abbiamo appena vista la classifica con la proiezione finale alla trentaseiesima giornata andiamo un po' a fare il solito paragone con quella che è la proiezione che è iniziata esattamente un mese e mezzo fa il Milan chiudeva al secondo posto e chiude ancora al secondo posto seppur con cinque punti in meno la Juventus avrebbe chiuso in base alle mie proiezioni di due mesi fa al terzo posto con quota settantaquattro punti eppure qua per me chiude al terzo posto seppur con tre punti in meno invece rispetta guardate la proiezione è perfetta Bologna Atalanta alla trentesima giornata avrebbero chiuso secondo le mie proiezioni nella classifica finale a pari punti appagliata a quota sessantanove ebbene amici miei è quello che ancora dice la proiezione quindi siamo molto vicini alla realtà la Roma nella trentesima giornata sei giornate fa per me avrebbe chiuso sesta a sessantotto punti chiude ancora sesta a sessantasei punti la Lazio avrebbe chiuso settima a sessantaquattro punti chiude ancora settima ma a sessantadue punti l'unica differenza di questa mia proiezione è in zona Conference League dove sei giornate fa avevo pronosticato il Napoli a quota sessantatre punti e invece la Fiorentina seppur con otto punti in meno sarebbe andrebbe a prendere il posto dei campioni d'Italia beh ragazzi miei perdonatemi perdonatemi ma aver ancora viaggiare ha una ottima proiezione che mi vede prendere le prime sette posizioni in ordine della serie A scusate non era proprio facile quindi per ora le proiezioni per la stragrande maggioranza si stanno rispettando cosa balla principalmente in questa storia se non succedono cataclismi tipo la Roma che non vince una delle prossime due partite oppure che la Lazio vince a Milano contro l'Inter e questo potrebbe scardinare qualche proiezione che ho fatto la classifica è bella che è fatta parliamoci chiaro l'uniche varianti possono essere rappresentate dall'Atalanta che magari viene agganciata dalla Roma ma ricordiamo che negli scontri diretti l'Atalanta ha vantaggio quindi la Roma deve fare un punto e più rispetto all'Atalanta una Roma che ha ancora le potenzialità per chiudere a quota 70 punti sì ce le ha per quanto no la Roma no non ce l'ha più secondo me perché ho messo il prefettivo che le vince tutto ormai quindi la Roma al massimo arriva a 66 punti quindi ragazzi miei c'è il rischio che la vittoria d'Europa League eventuale dell'Atalanta non sblocchi il sesto posto ok e invece la grande lotta e poi concludo e vi invito a mettere un mi piace a dire la vostra nei commenti è come potete vedere è la lotta serrata serratissima fino all'ultima giornata e forse anche più e ovviamente mi riferisco al recupero dell'Atalanta e Fiorentina che si giocherà il 2 giugno a campionato finito una cosa scabrosa una cosa scandalosa se la giocano Fiorentina e Napoli appunto per l'accesso in Conference League siamo vicini alla conclusione ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia proiezione mettete un bel mi piace come vi dico sempre commentate da Manuel è tutto vi mando un caro abbraccio ciao ciao